Siamo qui con parenti e amici, a casa nostra, perché è l'unico posto e modo che abbiamo per comunicare con te. È un modo comunale per continuare a mantenere vivo il tuo ricordo. Tu ora sei diventato un bellissimo angelo, il nostro angelo, e per noi non c'è angelo più bello di te. Non c'è ora, minuto o secondo, che passi in cui noi non pensiamo a te. Se solo tu potessi vedere come stiamo senza di te, capiresti l'importanza che hai avuto e che hai per noi. Tu eri il nostro pilastro, ci hai insegnato tanto a tutti, cos'è il rispetto, la gravitudine, l'amore, l'altruismo, la dignità e il perdono, e soprattutto l'umiltà. Ora noi non sappiamo dove la vita senza di te deciderà di portarci, ma cercheremo di non deluderti. Giulia, ci manchi tanto, troppo, ma ciò che mi manca di più è un tuo abbraccio e la tua risata che per noi era contagiosa. Facci sentire che ci sei, perché il vuoto che ci hai lasciato solo tu puoi tornarlo. La vita lo sova avanti, dobbiamo avere fede, perché con la fede tutto andrà bene. Dobbiamo asciugare le nostre lacrime e non piangere, perché il nostro sorriso sarebbe stata la tua pace. Giulia, ci sarai sempre nel nostro cuore. Grazie di essere stata. Ti vogliamo bene. E stasera, come ogni anno, ti facciamo i nostri auguri per il tuo ventitriesimo compleanno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti ferme oggi con gli anni, ben tanto la tua virginetta. Allora, con tutti gli angeli del cielo, i tuoi nomi, amici e altri, divertiti, comunque tu sia. Ti vogliamo bene. Amore di mamma, papà, rincolo, Jonas, senza dimenticare idea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.